ciao secondo te è possibile velocizzare davvero il tuo pc in una manciata di secondi io dico di sì vediamo assieme come fare la prima cosa da fare è andare in basso a sinistra sulla lente di ingrandimento e digitare visualizza impostazioni di sistema avanzate fatto questo ti basta scegliere il primo risultato in alto che dovrebbe avere esattamente questo aspetto qui eccoci qua allora quello che dobbiamo fare adesso è andare innanzitutto nella scheda che dice avanzate e puoi spostarci sulla sezione prestazioni e premere il pulsante impostazioni quasi sicuramente avrai questa impostazione qui sul tuo computer quindi scelta automatica delle impostazioni migliori che sembrerebbe ottimale ma non lo è quello che noi vogliamo fare invece è scegliere regola in modo da ottenere le prestazioni migliori cosa vediamo che va a disattivare tutti questi che sono effetti grafici di windows che appesantiscono molto il sistema alleggerendolo in maniera sensibile quello che però ti consiglio è di disattivarli tutti quanti tranne uno quello che dice mostra anteprime anziché icone perché fidati rende molto più facile il nostro lavoro anche se ci ruba un pochettino di ram non abbiamo finito quello che facciamo adesso è andare su avanzate e andare qui nella sezione memoria virtuale a cliccare sul pulsante cambia quasi sicuramente il tuo computer sarà impostato in questo modo gestisce automaticamente dimensioni file di paging per tutte le unità anche in questo caso non è quello che noi vogliamo perché il file di paging del computer è un file che contiene una serie di informazioni temporanee che servono al computer per lavorare tuttavia questo file viene messo sull'hard disk che notoriamente è molto più lento rispetto alla memoria ram cosa facciamo lo disabilitiamo e andiamo a scegliere nessun file di paging e a questo punto tutto quello che andava a finire in questo file di paging il computer invece lo andrà a mettere nella ram che è molto più veloce attenzione però prima di attivare questa opzione qui accertati che sul tuo computer ci siano più di 4 giga di ram 6 8 giga o più vanno già benissimo clicchiamo su ok 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 attendiamo l'eliminazione del file di paging clicchiamo l'ultima volta su ok e clicchiamo su riavvia ora al riavvio già noterai un sensibile incremento delle prestazioni del tuo computer alla prossima